Ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati con questo giocone dell'87, sembra della Capcom marzo un po' 1943 Battle of the Midway, che è un po' alternativo rispetto alla... Mamma mia, alternativissimo, e andiamo a vedere che cosa ci offriva questo giocone. Dove sono io? Adesso arriviamo, tutti e due, vedi, uno rossa e uno blu. Bellissimi, io spero di essere rossa. Ma chi lo sa? Ma mi sa di no, perché... Eh, no, io sono bianca. Pronti? No, ma stupendo, altro che... Come si chiamano quelli di adesso? Eh... Ah, risciove matta, questo è un'altra ritmina. Sì, ma queste avevano... Infatti è che due anche un pochettino, vorrei dire una cavolata, però più facile la nitrizia, perché dopo sono un botone di un'arrivo su quelle parti. Quei posti di venti. Poi questo c'avrà pure una bomba con un altro tasso, te lo dico. Ma non so... Oh! Ma me l'ho mandato io? Un po' è sì. Ma come no? Bellissimo, bellissimo! Ecco la bomba. Cos'era? È un specie... Quella B. Quella B fa... Beh, ma aspettiamo che ci sia qualcosa di più... Bello, 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 bello... Non va bene, però... Iniziamo già... Una vita! Bene, bene. Ma sto morendo io? Che ne so? Tu da te hanno preso tutti, non si sa perché, no? Tu spari ma non eviti i proiettili e tutte le cose. Ma non lo so, eh, non lo so, io ci so. Però manca a farlo a posto. Però tu c'è l'arma più... più potente. Ma sai tu che... C'hai i minuti contatti? In tutto questo? Si. Prendi questo, beh, sto prendere quella. E vedete se... Eh... No? Non prenda un po' di vita? Non prendo niente. Allora dai, un po' di senti. Devo prendere quella scritta polla che è? Oh, oh. Ah, faccia mia. Ma come ho sparato? Sparala tu. Cosa devo sparare? La bomba? A B, A B. Ti è piaciuta? E magari non mi ha fatto niente. Ci abbiamo fatto. Ah, mi ha preso. Io sto saltando a mirare, te lo dico. Sono morto? Attenzione tutti tutti tutti. Sono morto, ritorno su qui. Eh, adesso vedi che mi sta a essere mezza morta io? Eh no dai, ce l'abbiamo fatta. Eh, sono morto? Ti ce l'ho completata al 98%. Siamo grandissime. Abbiamo sbagliato il 2%. Eh, perché non abbiamo ucciso l'ultima sentinella. Ti dà tutta l'energia. Beh, meno male. Ma non ho capito perché il mio si è... Qua sono stato preso. Ma non lo so eh, non lo so. Secondo me si è andato. Quando riguarderò, secondo me è andato proprio a morire intosto a tutti. Pronto? Ti ricordate quando c'era? Ah no, vedi che scenderò spesso anche se non ti colpiscono. Perché? Perché quando tu spari, eh, devi prendere il po. Ti dà l'energia. Perché tu spari è come se perdessi... che ne so. Posso dirvi una cosa? Eh. Vi ricordate quando c'erano i joystick, anzi? Con l'autofire. Bellissimi. E tu ti mettevi lì. Non sarebbe più preoccuparti di niente, si può dire. Perché andavi solo avanti indietro e quello sparava come un pazzo. Però era proprio da casa, di certo non abbandonato. Guarda, eh. Eh sì. Bellissimo. Fanno uscendo un sacco di... Eh ma anche tu adesso sei poco sottile come il mio. Eh sì. E' un po' di... Ecco l'energia, le dividono. Ecco. Ma questo si abbassa questo... Oh, buon muore. Oh, buon muore. Non muore mai questo. E' buonissimo. E' buonissimo che si spara. Questo è un po' di... Che è sta cosa? Oh, hai preso... Non si direte a un giocatore. Hai preso le bombo, eh? Eh ma tu c'hai l'automatico. Cos'è l'automatico che hai messo? Ma che automatico? Quante? C'è scritto auto 33. Ho capito, ma devo prendere sempre. Non lo so. Perché infatti mi sembra che tu spara di più. Quindi fa le cose, non me le dice. Per sembrare più bravo. Ma quando mai? Sei morta, eh? Non so se... Eccomi qua. Quanto a questi che vengono da dire, no? E' un giocatore. Queste super navi. Oh, lasciala a me viene. Ecco, lo vengi. Ho cercato di evitare tutte queste palline. Mamma mia. Attenzione, attenzione, attenzione! Basta, ma che roba è? Ma dove siamo andati a finire? E' la tua? Eh sì. Quanto faccio anche la mia? non iniziano a essere già impossibili infatti ne è un'altra poste guarda quello che è venuto come kamikaze addosso incredibile ma che bruttoni vabbè cos'è? missili? non so che cos'è ci hanno fatto la barba ok abbiamo finito anche sto livello qua direi che comunque avete visto che gioco era sì ci è piaciuto anche questo tantissimo ma ti prendono eh ma questi ti prendono tantissimo dopo c'erano anche altri a scorrimento invece che dal basso verso l'alto da destra a sinistra però era un tipo di uno più bello dell'altro vabbè ciao a tutti e alla prossima domenica ciao a tutti